Insieme a Enzo di effetti speciali se ne è fatti tanti. Enzo Brogi è alto alto e assomiglia un po' a Buffalo Bill, un po' al generale Custer. Se Custer o Buffalo Bill fossero stati un po' più ironici e miti. Mi dica qualche cosa, lei dice ai Brogi gli deve dire qualche cosa a lei, no? Che devo dire? Un uomo che più che un uomo si potrebbe definire un prodigio della tecnica. Bello, alto, atletico e fatto bene, sia sotto che sopra. È un uomo saggio, concreto e generoso, fresco come un fiorellino di campo e vigoroso come un ravanello. Grazie Enzo! Ma che esagerati! Comunque il 13 dicembre votate Brogi Enzo, proprio come diceva la mia maestra a scuola quando faceva l'appello.